mmmmm... oggi il caffè lo pago io eh voglio ringraziare tutte le persone che stanno credendo nel progetto yeeeh questo è Purred Oggi usiamo il rosso puro, che ne pensate? Scrivetemelo nei commenti. Io l'adoro, il rosso è il mio colore preferito. Andiamo a fare la nostra base nera e versiamo un po' di colori. Quanto mi piace mischiare i colori. Base nera e tutti i colori pastello. Andiamo avanti col video e rilassatevi con questa dolce musica. Questa è Radio Arte Graffa. Grazie a tutti. Ora prepariamo una bella dima per la nostra parentesi graffa. Perché sono stanco di farla a mano e voglio una cosa precisa. Quindi prendiamo un po' di plastica e creiamola. Questo non si agita? No, 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 no. Delicius. Quindi cius. Ciao a tutti Adesso un po' di mascheratura e stendiamo un po' di colore acritico Vi piace questo? Yeah! Ciao a tutti! Oh, questo è purè! Ciao a tutti! DELICHOUS Come al solito ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina mi trovate su tutti i social noi ci vediamo al prossimo video se volete ve ne consiglio qui due e ricordate tutto questo è arte graffa Ciao a tutti! Ciao a tutti!